Isap, come primo anno, come sponsor dei battaglicelli a calcio femminile, direi esperienza più che positiva. Sì, siamo molto molto contenti. Nuova esperienza perché noi siamo vicini a molte società sportive veronesi, soprattutto per i loro settori giovanili. Il calcio femminile è la prima volta, abbiamo lavorato con il Chievo Calcio Serie A una quindicina di anni fa e abbiamo voluto riprovarci e siamo veramente molto contenti dello spirito, della collaborazione e poi ovviamente del risultato sportivo. Cerchiamo di essere vicini alle società sportive sane, che lavorano molto sui settori giovanili, che hanno voglia di emergere, ma anche di garantire ai loro tesserati un'attività sportiva sana. Il Chievo Calcio Femminile ci ha dato un po' questa sensazione, questa voglia di nuovo, il primo anno di partecipazione in Serie A, un grande feeling con la struttura societaria, col presidente e abbiamo deciso di partecipare a questa iniziativa accettando la loro proposta di sponsorizzazione, con un contratto biennale, quindi con un contratto che copre anche la stagione prossima. E diciamo, da un punto di vista dell'agonismo, devo dire che ne ho visto veramente tanto, più di quanto mi aspettassi. Da un punto di vista tecnico, un po' di gap c'è ancora, mi piacerebbe vedere molta più gente sugli spalti, perché secondo me lo meritano e proveremo a lavorare anche per questo, per portare l'anno prossimo un po' più colleghi a vedere le partite in casa, almeno. Veramente mi sono divertito e ho sofferto, anche in senso positivo, ho fatto il tifo, ho applaudito molte volte e sono veramente contento di averne viste molte. Noi siamo un'azienda che vende poco sul territorio, noi fondamentalmente vendiamo fuori dalla provincia di Verona, quindi avere una presenza di marchio non è forse così fondamentale, quanto invece dare aiuto e assistenza alle società sportive che lo meritano. Questo è prevalentemente il nostro spirito, non ci aspettiamo in assoluto un ritorno pubblicitario importante, ma vogliamo dare noi un contributo affinché chi lavora bene sul territorio per lo sport in maniera sana, ripeto, possa avere un aiuto in più.